Noi complessivamente siamo soddisfatti, il risultato sarebbe stato ottimo se avesse vinto anche Giosi, per pochissimo non ce l'ha fatto, con la vittoria di Fiorella d'Arzano siamo soddisfatti perché insomma noi siamo nati a gennaio, siamo contenti, siamo entrati in tutti i consigli comunali in cui ci siamo presentati, questo era il nostro obiettivo, incominciamo a essere presenti non più solo in modo ovviamente maggioritario a Napoli, che governiamo da sei anni e qui c'è il cuore del nostro progetto politico, ma cominciamo a essere anche altrove, aver vinto Arzano per noi è molto importante a proposito di quello che stiamo dicendo prima, perché Arzano non si votava credo da sette anni, due volte sciolta per infiltrazione della Camurra, Fiorella è una donna tosta, tenace, autonoma, passionale, intelligente, ho visto che si è accompagnato con tanti giovani, l'ho sostenuta volentieri e non la lasceremo sola, così come Giosi ha fatto una bellissima campagna del elettorale, le nostre candidature sono tutte fatte di persone che hanno passione civile, molti giovani e non abbiamo ansia da prestazione elettorale, quindi compreso il 2018, il nostro obiettivo è crescere un po' alla volta e dimostrare che si può creare un'alternativa politica vera che metta insieme rottura del sistema e affidabilità di governo. Come guarda l'esperienza di Pizzarotti, il risultato che ha fatto? Bene, buon risultato, devo dire, io Pizzarotti mi sono sentito anche spesso prima della campagna elettorale, Federico Pizzarotti ha fatto una scelta civica, quindi al di fuori di tre blocchi, centro-sinistra tradizionale, centro-destra e 5 Stelle, evidentemente i parmigiani lo hanno premiato perché ha governato bene, io non lo so come ha governato perché non sono mai andato a Parma tra l'altro in questi anni, però è stato premiato, quindi il sindaco che si ripresenta senza apparati forti viene votato evidentemente perché ha governato in modo positivo e credo che è un interlocutore importante per i prossimi anni, anche in Anci, un Anci che soffre sempre di più, io tra l'altro oggi mi sono stato tra i vari incontri, sono anche in Anci e una persona come Federico Pizzarotti può dare il suo ruolo importante per i sindaci che non hanno come dire un marchio, un'etichetta precostituita ma che lavorano esclusivamente nell'interesse delle loro comunità e per far rete con gli altri sindaci uniti nelle diversità perché altrimenti noi avremo governi che troveranno un giorno all'improvviso, anche di domenica, miliardi di euro per salvare banche e noi che vogliamo qualche spiccioletto, noi comuni, non per fare sagre ma per rispondere ai bisogni della gente, dalle politiche sociali alle povertà, ai trasporti, ai rifiuti e ci viene sempre detto che non c'è un euro, insomma a questo punto c'è una maschera che evidentemente va tolta, che è una maschera politica. Il risultato è importante il centro-destra, il centro-nord tutto mi pare, tranne Padova e Lucca e Carrara ha vinto il centro-destra, il centro-destra unito va forte, Salvini l'ho sempre detto che non va sottovalutato, evidentemente non do un dato politico, do anche un dato amministrativo, certe volte c'è un giudizio negativo nei confronti di chi ha governato, certe volte c'è una proposta che diviene credibile, sono un po' quell'alternanza che il Paese però ha sempre conosciuto tra centro-sinistra e centro-destra, i due dati che vorrei sottolineare da una parte che nonostante ormai una forza politica presente ovunque, nelle televisioni, nel Paese, in Parlamento, il Movimento 5 Stelle non sfonda, mi pare che vince solo a Carrara, quindi un risultato sul governo assolutamente deludente. Continuo a ritenere, ovviamente per noi questo è un motivo di soddisfazione e per questo voglio sottolineare che l'unica forte esperienza politica veramente autonoma che mette insieme cambiamento e affidabilità di governo continua a essere Napoli, anche dopo questa tornata di amministrative Napoli è l'unica città d'Italia che si caratterizza veramente per quell'elemento di forte novità, dico come grande città tra gli schieramenti di centro-sinistra, centro-destra e Movimento 5 Stelle.